Amici e amici di Rossini TV, bentornati al nostro secondo appuntamento con Checkup Obiettivo Salute qui dalla struttura di Fisioradi nel nostro salottino che è stato sistemato, vedete, in maniera perfetta e questa sera abbiamo ospite un neofita per la nostra trasmissione, si chiama dottor Vittorio Gemmellaro, buonasera dottore. Buonasera a voi. Il dottore è specialista in medicina dello sport, quindi è una delle pratiche più affascinanti della medicina, se lo faccio a dire soprattutto per gli appassionati di sport che siamo in tanti, siamo in tanti essere tutti allenatori, tutti CT, tra un po' saremo anche tutti medici sportivi, in realtà non è così perché è una cosa molto difficile e c'è un lungo percorso prima di diventarlo. Direi che è una specialità giusta nella città giusta, questa è una città dove la pratica sportiva ha un valore diverso che rispetto ad altre realtà, quindi molti sono i praticanti sia amatoriali che agonisti di sport e quindi è una specialità che in questa realtà ha davvero il suo giusto valore. Ma quindi mi viene spontanea la domanda, il suo sport preferito qual è dottore? Allora il mio sport preferito è il calcio, come la maggior parte delle persone, però amo guardare alla televisione veramente tutti gli sport, anche da quelli più particolari o da quelli diciamo più poveri, amo guardare tutto. Se dovessi scegliere diciamo uno sport televisivo che mi affascina di più è la pallacanestro NBA, questo di sicuro è quello che mi affascina di più. E quello che pratica invece? Quello che pratica sia per età e per evitare rischi infortuni è la corsa, quindi il jogging e la bicicletta indoor. Mi aspettavo il curling che è molto affascinante anche televisivamente parlando. È uno sport freddo, sono amante del freddo. Dottore, dal primo di maggio del 2023 oltretutto è il direttore sanitario e responsabile sanitario di questa struttura, Fisioradi Medical Center, e sicuramente è un'esperienza che si va a sommare alle sue tante precedenti in una struttura che allo sport è molto attenta. Questo rapporto con Fisioradi nasce principalmente da un'amicizia dei fini anni 80 con Maurizio e quindi poi ognuno ha fatto il suo percorso professionale. Cinque, sei anni fa ci siamo ritrovati io a collaborare con questo ambulatorio nella vecchia sede e successivamente quando siamo subentrati in questa sede è nato un discorso che mi ha portato con molto piacere, anzi direi con molto orgoglio, a ricoprire il ruolo di direttore sanitario di una struttura multispecialistica con varie specialità sia in ambito radiologico, riabilitativo, ma anche di medicina del territorio, quindi è ad ampio raggio. Ad ampio raggio quindi anche ad alta responsabilità? Beh per fortuna chi collabora, chi lavora in questa struttura, ma lo stesso Maurizio rendono una vita molto semplice al direttore sanitario, quindi devo dire che è una responsabilità limitata. È una responsabilità che poi la porta anche ad avere la possibilità di fare la sua professione ad ampio raggio. In questo momento lei è medico sportivo del Cesena, importante realtà calcistica del nostro territorio, forse la più importante da qui a Bologna. Cesena ha una tradizione calcistica che l'ha portata negli anni 70 a essere protagonista in Serie A, addirittura in Europa. Oggi è una società modello per quello che riguarda tantissimi aspetti, gioca in uno stadio, forse uno dei più belli del centro Italia per quanto piccolo e quindi questa attività di medico sportivo del Cesena sicuramente anche molto impegnativa. Sì, il ruolo di responsabile sanitario del Cesena Calcio è un ruolo affascinante, anche se il mio cuore ha altri colori sociali ben intuibili, però è una realtà molto organizzata che ha mantenuto la stessa struttura e le stesse professionalità di quando svolgeva il campionato di Serie A. Quindi la difficoltà per me è entrare e inserirmi in una realtà già rodata, con una storia molto importante e accreditata e io credo che con molto impegno e con molta serietà cerco di svolgere questo ruolo. Quindi è quel suo cuore cui faceva riferimento prima, quest'anno ha un po' pianto in occasione della partita che si è svolta al Manuzzi. Non diciamo altro, non entriamo troppo nell'argomento, però sicuramente è andata così. Diciamo che è stata una delle vittorie meno gioiose dell'anno. Ok. Essere medico di medicina sportiva. Oggi è una pratica innovativa perché? Perché lo sport è evoluto tantissimo. È evoluto da tutti i punti di vista, le sollecitazioni fisiche, fisiologiche, ma non solo, anche tutto ciò che c'è dietro la prestazione sportiva. Beh, diciamo che il medico dello sport ha diverse possibilità operative. C'è attraverso uno studio cardiologico degli atleti, una cura ortopedica dell'atleta, ma anche di una valutazione funzionale. Il professor Vecchiedire, il più grande medico dello sport, della storia contemporanea, diceva che il medico dello sport è il più generico degli specialisti. Cioè è un po' colui che deve sapere tutto ciò che comporta una patologia riguardo a un atleta. E quindi non può interessarsi solo di un argomento, ma deve cercare di sviluppare le proprie conoscenze, anche in maniera magari più basica, per tutto ciò che comporta l'attività di un atleta. Quindi il medico dello sport deve interessarsi di diverse cose riguardo all'atleta. E questa struttura direi che è un'esemplificazione di questo, perché c'è un apporto radiologico, fisioterapico, multispecialistico, e quindi diciamo l'atleta professionista o amatoriale può essere preso in carica sotto tutti i vari aspetti. Esatto. Proprio questo lei ha esordito in questa intervista parlando di una città sportiva. La città sportiva è la città che ha la possibilità di avere spazi, di avere strutture, di avere proprio una cultura anche dello sport. Sicuramente questo 2024 è un anno molto importante per la città di Pesaro, capitale italiana della cultura, ma le due cose vanno di pari passo, perché avere un approccio giusto alla pratica sportiva significa avere un approccio giusto verso il proprio benessere. C'è uno studio dell'Università di Modena che correla il chilometraggio delle piste ciclabili inversamente alla spesa di sanità pubblica. Quindi più si pratica sport, anche all'aperto, più si pratica attività fisica, meno spesa sanitaria sostiene quel territorio. Quindi è indubbio che lo sport è una tra le migliori terapie per mantenere il corpo sano. E anche sotto l'aspetto psicologico è inutile dire quali sono gli effetti positivi dell'attività fisica e dell'attività sportiva, perché a volte non bisogna dimenticare sotto il nome sport si pensa solo allo sport agonistico. Dobbiamo includere tantissimo l'attività fisica, l'attività motoria, l'attività ludica. E quindi possiamo tranquillamente dire che questa realtà, questa comunità, la nostra città, avendo tanta pratica sportiva, ha una crescita anche sotto l'aspetto culturale. Non so se è cultura che aiuta lo sport o è lo sport che migliora la sensibilità di ciascun cittadino verso quelli che sono argomentazioni anche di tipo culturale. Magari può apparire banale, ma l'ha appena detto, anche la più semplice attività sportiva, il camminare, è un qualcosa che fa benissimo all'organismo. Si dice che addirittura possa essere forse il miglior tipo di sport se lo si fa tutti i giorni e con una certa metodologia. L'attività fisica, come può essere la camminata, anche non veloce, praticata tutti i giorni, ha degli effetti benefici anche dal punto di vista terapeutico. Cioè il paziente iperteso riesce a ridurre di circa 10 mm di mercurio i suoi valori pressori, sia sistolici che diassolici, cioè sia di massima che di minima. Ma anche il paziente diabetico, con questa attività fisica moderata, riesce a ridurre i suoi valori glicemici. Quindi è proprio da considerare come una terapia, non solo come un beneficio dal punto di vista fisico e mentale, ma ha un effetto proprio terapeutico anche in modo specialistico su alcune terapie. Invece quando si parla di sport professionistico magari ci capita di assistere a maratone tennistiche di 5-6 ore, partite ripetute due volte nel giro di 20-24 ore. Ma come fanno questi atleti a reggere a quel ritmo e a poter davvero approcciarsi in quel modo a partite così impegnative? Non bisogna mai confondere ciò che è lo sport professionistico dallo sport in genere o dall'attività fisica ammatoriale. E l'attività sportiva agonistica, professionistica, come dice sempre, dice il termine stesso, prevede tantissime ore di dedizione all'attività fisica. E quindi tutto ciò che noi vediamo è frutto di un allenamento di anche 6, 7, 8 ore al giorno, a secondo delle discipline. Il duro lavoro insegna a resistere a carichi di lavoro, quindi non è così stravolgente poter assistere a queste manifestazioni. Secondo me, analizzando, non so, il Tour de France o il Giro d'Italia, 21 giorni di tappe durissime una più dell'altra è una risposta a questa domanda. Cioè sono lavori di lunga durata, durissimi, ma che hanno alle spalle un lavoro intenso, un'alimentazione corretta, un'integrazione corretta, uno stile di vita corretto. Tutto in termini professionali, cioè tutto viene fatto in modo estremamente professionale, senza lasciare nulla al caso. Dal materasso con cui devono dormire, da come si alimentano, dall'umidità dell'ambiente dove devono dormire, nulla è lasciato al caso. Ecco perché queste prestazioni si possono ottenere. Siamo reduci anche da tempi difficili come quelli del Covid. È un'esperienza che ha stravolto la vita di tutti quanti. Noi lo vediamo, lo notiamo quotidianamente, perché effettivamente sono cambiate le abitudini. Anche in quello che riguarda l'approccio alla medicina sportiva ci sarà stata un'evoluzione conseguente alla pandemia. Quindi controlli di tipo diverso, reazioni di tipo diverso, probabilmente anche un approccio psicologico diverso. Beh, su disposizioni del Ministero della Sanità e poi recepita da tutte le federazioni, anche quella dei medici sportivi italiani, è stato elaborato un protocollo post-Covid per poter far rientrare le persone che hanno sofferto di questa malattia all'attività sportiva. Quindi c'è stato un protocollo chiaro, molto lineare, per poter ritornare allo sport, all'attività fisica. Prevedeva alcuni esami suppletivi rispetto alle visite normali di base, come un test da sforzo, un ecocardiogramma e esami del sangue a richiesta del medico dello sport, e tutto questo ha permesso che l'attività sportiva, sia agonistica che amatoriale, non subisse uno stop ulteriore rispetto a quello che avevamo avuto con il fermo da Covid. Il dottor Gemellaro, peraltro, è un medico che è stato anche impegnato in maniera importante con iniziative sociali. Due volte presidente dell'Avis di Pesaro, l'istituzione, l'associazione che cura la possibilità di donare il sangue, quindi un'attività fondamentale per gli altri, fondamentale nella medicina. Cosa ha portato di questa esperienza di positivo? Perché sicuramente aver avuto questa responsabilità di un'istituzione così bella, così meritoria per gli altri, io penso che abbia dato comunque tanti stimoli e tante soddisfazioni. È stata formativa tantissimo perché vedere tanta gente avere voglia di donare il proprio sangue, di farlo anche diverse volte in un anno, di partecipare a tutte le manifestazioni di promozione di questo gesto, è sicuramente un'esperienza entusiasmante, ti fa conoscere tante persone che magari hanno pochi asterischi o poca gloria nella vita quotidiana, ma che sono persone meravigliose, disposte non solo a donare il sangue, ma la maggior parte del proprio tempo libero, per promuovere un'iniziativa così importante e delicata come la donazione del sangue. E anche in quell'occasione lì avevo espresso lo stesso concetto, che più una comunità cresce, più una comunità diventa sensibile, più si sviluppa il senso del donare, del donare qualcosa a un altro. Viceversa, più persone si avvicinano alla donazione del sangue, più questo spirito di comunità e di aiuto reciproco cresce all'interno di questa società. E quindi questi valori si intersecano l'uno nell'altro e mi fanno pensare molto a quello che dicevamo prima, c'è anche l'attività sportiva in questo, aiuta sensibilmente. E per chiudere abbiamo sentito nella puntata di presentazione dal responsabile di Fisioradi, Maurizio Radi, dire che c'è la volontà di accreditare questa struttura a livello regionale, il direttore sanitario ne è quindi un protagonista, e sicuramente anche una struttura come questa, che è privata, affiancata al pubblico, in un percorso di crescita e di aiuto reciproco, può rientrare proprio in questo discorso di reciprocità e di vantaggi per tutti quanti. Il senso dell'accreditamento è proprio questo, è ovvio che deve seguire un iter burocratico molto lungo e molto complicato. Il senso è quello di dare una mano, un aiuto alla sanità pubblica, lì dove ci possono essere delle carenze o delle impossibilità a gestire tutti i servizi. Perfetto, grazie dottor Gemellaro, è stata davvero una chiacchierata molto interessante perché ci ha fatto comprendere come la medicina sportiva sia in realtà tutti i giorni alla nostra portata e allo stesso tempo come la si può interpretare come l'ha interpretata lei. Grazie davvero. Grazie a voi, arrivederci. L'appuntamento è per la prossima settimana, buona serata e continuate a restare su Rossini TV. Grazie a tutti.